Militare Fereniche, pronta la guerra? Prontissima! Oh, bene, fai il signor sì, capitano? No, non sei il mio capitano, siamo uno contro l'altro, Steph! C'ho provato. Uno contro l'altro, vincerà quello che sopravvive, giusto? Perché avremo delle armi letali, quindi penso che passeremo il tempo a farci esplodere, no? Sì, a spararci più che a farci esplodere, a farci esplodere è solo l'ultimo. No, 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 aspetta, c'è anche un round in cui ci si fa esplodere. Ma è l'ultimo round, perché appunto farà casino. Comunque, siamo in un campo di battaglia molto particolare che vedrete a breve e queste sono le armi che utilizzeremo. Ad ogni round utilizzeremo un'arma diversa e sarà una sfida di sparare sì quanto di nascondersi, perché se guardate il campo di battaglia è un vero e proprio labirinto. È molto insidioso, esatto. Quindi il nascondersi, il muoversi bene sarà molto importante, oltre che lo sparare. Questa mappa è stata fatta dal nostro assistente. Ovviamente. Che la scorsa volta, quando ha fatto appunto quella dei dinosauri e riuscito il video, si è letto tutti i commenti ed era felicissimo di aver visto un sacco di commenti riguardo a lui che faceva i complimenti e così via. Quindi, di nuovo, scatenatevi sull'assistente perché questa volta vi garantisco che è anche più figo. Allora, Fede, sei pronta per il primo round? Sì. Ok, io mi prendo la mia Desert Eagle, mi prendo i colpi della Desert Eagle, la ricarico. Ok, perfetto. Ok, penso di aver ricaricato pure io. Mhm. Ok. Ok, allora puoi sia sparare senza mirare col tasto destro, sia mirare col sinistro e poi sparare. Ok. Chiaro? Mi hai portato un colpo perché davo per scontato che si... Che si mira col destro e si mira col destro. Fanno al contrario le cose ogni tanto e non so bene perché, però va bene così. Io mi sono già nascosto. Ovviamente, se ci muoviamo con control... Mi mette ansia, siccome viene troppo lenti. Non si vedono le scritte. Se invece ci muoviamo, normalmente... Allora, mi devo ricordare, si spara con destro. Ok, ok. È il contrario a quello che io sono sempre abituata. E quindi mi hai già trovato, vero? Sei troppo zitta? No, no. Non so dove sei, cara mia. Ho l'ansia. Lo so che è l'ansia. Colpita! 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 Ti ho colpito? Sì, almeno una volta. Non c'è più bisogno di control. Ma c'era bisogno di finirmi. Mi dovevo nascondere un attimino per ripararmi. Voglio rifare un altro round con la Desert Eagle. Ok, ok. Perché non ho ben capito come si spara. Ora lo sto capendo comunque. Comunque, ovviamente, dopo che iniziamo a spararci non c'è più bisogno che stai in control. Capito? Altrimenti sei più facile da colpire. Ah, beh, in effetti mi ha fregato quello. Abitudine di stare sempre accovacciata, sì, ok. Va bene, va bene, va bene. Allora, tengo i colpi che già ho, non ho bisogno di rimettere una roba del genere. Sì, siamo strapieni, quindi è stra easy. 1-0 per Steph, signori. Inizia tutto molto bene. Dimmi quando sei pronta, cara? No, non te lo dico. Sei pronta? Non te lo dico. Ok, siamo partiti. Non guardare il mio schermo! Non stavo guardando il tuo schermo. Devo andare a ucciderti alla coatta. Tipo che tu parti, ti giri un angolo e sono già lì. Eh, certo. Come ci arrivi fino a lì, cara? Non lo so. Spiegami, qual è la tua tattica di quest'oggi. Dov'è? Steph? Dove sei? Vuoi un proiettile? No. In testa? In faccia? No, grazie. Nella spalla? No, 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 no. Non ne voglio proiettili. Che cavolo è? Ho paura. Ho paura di girarmi e di trovarti alle spalle. Che ansia. Dove cavolo sei? Non la vedo. Ok, aiuto. Oh, ma te ho troppo ansia sta roba. Però è troppo sto labirinto, Steph. Steph ti troverà alle spalle prima o poi. La sai, vero? Prima o poi ti trovo. Ta 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 ta. Ma dove cavolo è? Dove cavolo sei finito? Io prima per mezzo secondo ti avevo anche vista. Da dove? Vieni qua. Ok. Ora so dov'è. Ok, l'ho colpito un po'. Aiuto. Dov'è, Steph? Ok. Ok. Porca l'ho mancata. Ok. Quanto ci vuole per farti morire? Mi hai fatto pochissimo, eh. Cosa? Mi hai fatto poco danno. Come ti ho fatto poco danno? Io ti ho visto rosso. Ti ho visto preso. Sì, sì, mi prendi. Ma non è che faccia tutto sto danno. Devi colpire un sacco di volte e devi sparare a raffica così. No, dai! Mi hai lasciato a tre cuori. Stai barando. Io so che stai barando. C'è qualcosa che non va, Steph. C'è qualcosa che non va. Devi sparare a raffica. Ta 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 ta. Eh, io sparavo un colpo. No, no, no. Ok, io l'ho capito. Basta, passiamo alla prossima arma. Questa non mi fa impazzire. Va bene. All'esertico in generale non è un'arma che mi fa impazzire. Lo sappiamo. Sembra anche esperta, capito? Lo sappiamo. Allora, quindi. Munizioni. Sono spaventata. No, la cesta con la pistola mi ha partito. Cavolo, siamo già arrivati a questo punto? No. No, dai. Allora, per chi non sta capendo, adesso abbiamo il cechino. Ops, ho già sparato. Oh, cavolo, mira tantissimo. Allora, devo rimettermi un attimino la mia divisa. Cioè, ma qua va giocata a no scope. E perdo anche questa, vado via. Ti ho preso? Ti volevo prendere io. Ma porca è difficilissimo. Cavolo, sei difficile. Ricarico. Ok. Dov'è? Ho provato a mirare. È un caos assurdo. Dov'è? Dov'è? Ti ho presa. Dai, ma come fai? Boom. Smettila. Sto cercando di mirare. Esci fuori. Metti la testolina fuori. Boom. Boom. Non mi piace sto gioco, Steph. È terribile mirare. No, è terribile sparare. È terribile. Chi le ha inventate queste armi. Cavolo, è un casino. Cioè, è impossibile. È impossibile. Il fucile a cechino è inutilizzabile. A meno che non sei proprio lontanissima e quindi saluti alla grande. Eh, certo, certo. Vuoi la rivincita sul cechino o ci spostiamo su armi pesanti? No, voglio la rivincita. Perché sennò ci sono le armi che più ti piacciono. Dai, allora andiamo alle altre. AK-47. Il cechino mi ha fatto schifo, sinceramente. Fucile a pompa. So che queste cose ti piacciono tanto, quindi secondo me ti diverti un sacco. Ok, siamo quindi al fucile a pompa. Per la precisione il model 1887. Abbiamo un botto di colpi. E io sinceramente, Fere, ti voglio proporre una sfida. Dimmi. Questa ce la giochiamo correndo. Dai, ok. Ok, vai. Sono già partita. Ok. Porca miseria, mi sono confuso sui tasti. Ok. È terribile sparare, Steph. È terribile. Ok. Perché ricarica in modo così strano questo fucile? Ma non lo so. Ok. Aia, mi hai fatto malì. Ma come faccio ad aver preso tanto io? Ho un cuore. Dove sei? Aia. Ok. No, dovevo ricaricare. No, 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 no. Aiuto. Io ho tre cuori, eh. Non è che sto messo a meglio. Devo mangiare. Fere. Oh. Ecco, questa è un'arma che mi è piaciuta. Anche se ricarica davvero strano. Cioè, te lo gira così. Sì, non so perché fa quella capovoltina così. Sì, ti metti un'ansia perché poi giustamente è lento. Parca miseria. Stendo un fucile a pompa è davvero lento. Ok. Però dai, è carino. Voglio la rivincita. Con questo si spara un po' meglio. Voglio la rivincita. Ok. Ok. Mi sa che non hai l'effetto di quando prendi danno, quando vieni sparato da questo fucile. Ok. Quindi, tu dicevi, come faccio a prendere danno? Semplicemente ti stavo hitando ma non te lo segnava. Ah, ecco perché sì. Quindi ci stavamo hitando a vicenda, capito? Infatti, a me non è sembrato di essere stata colpita, ma mi sono ritrovata tipo con tre cuori. Anche a me ha dato quel feeling. Facciamo fissi. Ah, non mi sta colpendo, è facile. E poi mi vedo un cuore. Eh, esatto, esatto, esatto. Vabbè, è particolare. Sempre correndo? Sempre correndo? Sì. Ok, vai. Oppure stealth? No, dai, correndo. È stato divertente. Almeno sono round veloci. Su. Ok. Stavolta in faccia. Boom! Cioè, senti? Ok. Cavolo! Ok. L'importante è aspettare alla fine di tre colonne. Appena è. Aspetta che. Rush. Sto mangiando. Rush. Sto scappando. Ok. Boom! Ah, ti ho freddo pure io. Sì, mi hai fatto malissimo. Eh, ho tipo quattro cori. Io ho due e mezzo. Tre adesso. Ricarica. Ok. Mangia, 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 mangia. Perfetto. Allora. Sto ricaricando anche il mio e ci metto una vita. Che ansia. Fai schifo, fai schifo. Fai davvero schifo, Steph. È divertentissimo. Ma tu comunque, cioè, come fai a colpire attraverso le colonne? Me lo devi spiegare? Perché leggermente, tipo così. Ma cosa leggermente? Guarda. Ma che schifo che fai. Ti voglio così prenderti hito. Ma neanche mi vedo. Sì, che ti vedi? Ho la tutta quasi rotta. Ma la vorresti cambiare, Steph. C'è la testa gigante? Certo che ti vedo. Sento, sono i passettini. Io so dove sei. Non è vero. Io lo so. Non è vero. Sì. Non lo puoi sapere, non mi hai mai visto. Ti sto per assaltare. Ok. Ok. Sei preoccupata, Fere? No, per niente. Dovresti. Sono vicino. Non sei vicino, perché ho le spalle scoperte. Quindi se non ti vedo di fronte non ci sei da nessuna parte, caro mio. Tu dici? No, cavolo! Aiuto, fa paura. Quanto ti è rimasto? Parecchio, non fa molto male. Io ho tre cuori, mi hai distrutto. Ok. Devo riscomparire nell'ombra. Cavolo, mi hai già visto. Ciao, Steph. Che vergogna che fai. Ok. Sta mangiando. È buona la bistecchina? No, fa schifo. BOOM! Cavolo! Mi aveva visto! Quanto hai? Ecco, anche il cuore. No! Porca miseria, penso avrò mi stessi seguendo. Vieni qua, Steph. Devo mangiare. Ma non si può tirare? Non credo. Secondo me c'è il tasto per tirarlo, comunque. Aiuto. Ci dovrebbe essere il tasto per tirarlo e quindi colpire. Ma guarda come si nasconde, che infame. Ok. Guarda che ti vedo, Steph. Sei una vergogna. E dove sono? Sei qui dietro. È vero! E tacchiappo. Allora, mi hai dato la tua armatura che ovviamente non voglio. Beh, se mi corri in faccia è normale che mi rubi tutto, ma scazzona. Allora, si spara con? Con destro. Destro. Sinistro. Destro. Con punto sempre! Si mira con sinistro e si spara con destro. E se tieni premuto, spari a raffica, ma è molto smirato. Ma ti ho preso? No. Come no? No. Cioè ti ho mirato dritto. No, mi sa che ti devi anche ridare l'armatura che ti ho rotto qualcosa. C'è qualcosa di molto strano in questa... Provalo un attimo, tanto è un sacco di caricatori. Divincita di AK e poi RPG. Giusto perché non sei riuscita a spararmi e quindi ti voglio dare... Ma guarda, andiamo in un gioco dove si spara davvero, ti tridendo il cervello, Steph. Andiamo su Fortnite dopo, cara. Ma dai, sì, e ti ammazzo! Vedremo. Ma non possiamo giocare, non giochiamo mai contro. Lo so. Allora. Vale tutto. Arrangiati. Eri lì? Allora, allora. Io ero da due ore dietro di te. Questo perché ti devi sapere quella alle spalle, Steph? E poi all'inizio ho sbagliato, ho premuto anche sinistro per sparare. E' passata da non so sparare a mi ha mitragliato la bocca, guarda. Te l'avevo detto, però. Non fa distrarsi un attimo con te. Credo che mi hai rotto l'armatura. Porca miseria, mi hai talmente trivellato. Vabbè, non mi serve l'armatura. Sai perché? Lo dici tu. Perché tanto con l'RPG credo che... No, prendere... Ah, è vero che abbiamo finito il round. Sì, è vero. Ora prendo l'RPG. Uè, fermo! Ma che fai? Mi dimentico! Di togliere l'arma quando apro la cesta e parte la mitragliata. Spare a ricaricare lento o forte? Sì. Vuoi sparare un colpo di prova per vedere come funziona? Sì. Aspetta che mi sto mettendo tutti i colpi in barra, tutte le cose che mi... Allora, fai vedere la ricarica. Ma è buca. Come buca? Buca. Non bucare la mappa! E tanto poi la ricarichiamo. Sparo in cielo. No, ma così non capisci. Buca, buca. Vai, vai. No, non voglio bucare. Vai, vai. Ok. Via! Però no, aspetta. Riprendo i blocchi, ricostruisco, Steph. Via! Questa mappa ci è stata fatta con tanto amore. Sì, ma basta ricaricarla. Non puoi distruggerla, Steph. Sei un cattivone. Io vado a ammazzarla. Che brutta parola, cattivone. Allora, non so come mi escono queste parole. Ecco qua. Ma come facciamo? Corriamo, siamo in stealth. Siamo già molto lenti, eh. Io sono in stealth. E so dove sei. Hai paura di esplodere? No. Dovresti. Non ho mai paura. Ne facciamo una stealth e una in corsa con l'RPG. A me non piace. Ti ho preso? Ti ho preso? A me no. Neanche a me. Ma no. Quanto è lento a ricaricare. Ora? Sì. Ma io non ti ho preso. T'ho fatto un buco sotto i piedi. Mi hai fatto mezzo cuore. Oh, cavolo. Aspetta che mi riprendo le cose. Ecco qua. Fede. Eh. Abbiamo bucato molto. Come abbiamo bucato? Sì. Oh no. Sì. 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 Sì.